Attenzione, Medella, uno a prenderlo lì, uno a prenderlo! Gol, uno a prenderlo lì, dai! Gol di Brozovic, al minuto numero 8. Uno a prenderlo ragazzi! Esulta Icardi, il tiro dalla distanza era di Brozovic, vediamo se ha deviato Icardi sotto porta. Probabilmente sì. Siamo a minuto 9, si è visto due giorni fa che c'era l'uomo liberissimo al limite dell'area di rigore. Nessuno ha chiuso il tiro. Palazzo. Palazzo attacca Licksteiner. Palazzo la mette in mezzo, cerca lo scambio che riesce davanti a storare il Palazzo. Poi fuori. Attenzione a sinistro, palo! Poi, no, fuorigioco, fuorigioco. C'era già alzata la baldirina del signor Marzaloni da due anni. Posizione irregolare, non è mai esistita questa azione. Fuorigioco, già sbandierato prima ancora che tu entrassi in area. Calcio di punizione è già battuto. Guarda lì, guarda lì. Siete in due fuorigioco, mica uno, siete in due. Marchisio, due fuorigioco. Romulo. Bardagli. Mentre rivediamo la... Ormai la sua memoria anch'io come attaccano. Vediamo se difendiamo bene. Palla alta, centro campo. Dall'altra parte più veloce Morata, attenzione. Morata, Morata, Morata davanti Andanovic. Lo punta Morata, vuole il rigore, va giù. Attenzione, daglielo! Daglielo, c'è il coraggio! E anche il cartellino giallo. Attenzione. Vidic lentissimo, alla sua età, caro Recca. Butta giù Matri. Mentre arrivava velocissimo, innamorata. Attenzione. Attenzione. Morata voleva tirare gli adatta Marchisio. Qui dice Mino, attenzione. Attenzione. Vediamo. C'è grande discussione perché i giocatori della Juve vorrebbero il rosso. I giocatori della Juve vorrebbero giustamente il rosso. Perché se dai rigore così, con l'uomo lanciato a rete, è rosso. 41 e 28. Recca sarebbe rosso quello, eh? Comunque. Caccio di rigore. 41 e 37. Marchisio due gol in stagione. Non è solito tirare i calci di rigore Marchisio. Andanovic è solito pararli. Vediamo se la sorpresa di Claudio. Dai Claudio. Presente al numero 35. 34 va con la Juve. Il destro di Claudio. Gol! 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 La Juve in gol! È un gol di fino. È un gol del principino. La Juventus pareggia con il numero 8. Minuto 42. Claudio Marchisio la mette in gol e il suo gol numero 35. Con la maglia bianco-nera rimettiamo a posto le cose. Attenzione. 1-1 con il gol di Marchisio. Avanziamo un cartellino rosso. Sturaro, 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 Sturaro. La mette lì per il polpo. Destro, destro. Prova a sfondare su tre. Palla ancora in area incollata al piede di Pombani. A quattro davanti addirittura. E allora con la punta di piede per Padoin. Il cross di Padoin. Siamo in due lì. Llorente la fa sfilare. Sturaro. Conclusione deviata. Vuole il braccio. Vuole il rigore. Sturaro. Palla ancora alta nella zona di Pombani. Si rialza Morata. Può tirare. Morata. Nesta. Andare. Gol! 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 Innamorata sempre di più! Prenderà Juve la porta in gol. Alvaro Morata al minuto numero 37. Al gol numero 8 in campionato. Più 4 in Champions 12. Più 2 in Coppa Italia 14. Innamorata sempre di più. La palla avvelenata ti schizza su.